clic ben ritrovati i miei cari eventori dell'isona bar calcio appena letto le parole rilasciate da canovi la gente di tiago motta a cui periodicamente vengono effettuate delle domande indovinate su quale argomento sul rinnovo sul futuro del suo assistito tiago motta che tanto bene noi sappiamo sta facendo qua a bologna e che noi tifosi bramiamo dall'avere quella informazione che potrebbe vorrebbe recitare rinnovo di tiago motta ma è lo stesso canovi a gettare acqua sul fuoco perché sostanzialmente lui che pone alla fine di questo breve scambio con il giornalista di turno una domanda che è del tipo ma ci lasciate godere questo momento senza parlare del futuro di tiago motta e poi prima dice a tempo debito lui prenderà una decisione ma non è questo il tempo debito adesso sapete lui pensa step by step partita dopo partita il suo futuro adesso è la partita che vi sarà sabato alle 18 al dall'ara contro la futura vincitrice della serie a ok i futuri scudettati della doppia stella parlo dell'internazionale di milano che io adesso qui apro una parentesi tonda quadra graffa hanno vinto ieri con il genoa ci sarebbe da aprire altre parentesi riguardo agli orrori no arbitrali che la serie a quest'anno ne è piena solamente pensando a questa giornata quello che è successo in lazio milan quello che è successo in torino fiorentina quello che è successo in inter genova pensando a di bello mi viene in mente bjv bologna indoi il junior neggia a te di bello ma anche quello che ha combinato ieri e i rold insomma e potremmo estendere la cosa molto più in generale ma torniamo torniamo al nostro argomento invece principe ossia il il rinnovo di tiago motta lui pensa step by step pensa l'inter e secondo me si pensa anche a farlo sgambetto all'inter perché ragazzi è vero che l'inter sta facendo un filotto che venne superiore anche al nostro noi parliamo di sei vittorie consecutive potrebbe essere la settima qualora dovesse arrivare una vittoria sabato ma per l'inter non so io ho perso il conto delle vittorie consecutive che stanno partorendo senza contare che per loro arrivano da più lontano perché c'è anche la supercoppa la champions league e sono proprio alla vigilia del match del super match con l'atletico madrid e allora mi vien da pensare quale momento migliore pensate anche le condizioni astrali no tutti gli allineamenti di plutone giove saturno che si sono venuti ad allineare a nostro favore e l'inter giocherà contro di noi al dall'ara e se andiamo a prendere la classifica delle partite solamente in casa l'inter è seconda a due punti proprio dall'inter cioè in bologna se si dovesse guardare alle sole partite giocate in casa è la seconda squadra che ha totalizzato più punti di tutta la serie a dietro solo per l'appunto all'inter e dunque ospitiamo noi l'inter e quindi giochiamo in casa dove quest'anno siamo belli con due coglioni grossi così l'inter viene anche lei comunque da una serie di partite interminabile di vittorie viene alla vigilia della sfida con l'atletico di madrid dove sicuramente anche fronte e forti del fatto che hanno 15 punti di vantaggio sulla seconda è ovvio è umano che penseranno la partita con l'atletico di madrid o comunque divideranno il pensiero mentre noi saremo col pensiero unicamente alla partita contro l'inter quindi io dico se non adesso se non in bologna inter quando mai l'inter potrà perdere punti è la domanda che mi faccio secondo me c'è terreno fertile per fare l'ennesimo capolavoro targato tiago motta e io dico che il bologna sabato può fare lo scherzetto e quindi perché sto parlando di questo perché giustamente no canovi dice non parliamo del futuro parliamo del presente perché quello che tiago motta pensa lui pensa semplicemente a quello che sta per venire quindi all'inter poi quello che sarà lo vedremo lo valuteremo quando i tempi saranno maturi avremo le risposte al che allora internos e quindi abbandonando le dichiarazioni ulteriori anche perché non mi sembra ne abbia rilasciati interessanti canovi e quindi facciamo un internos mi viene da pensare allora tiago motta è probabile che stia anche temporeggiando perché vuole sapere avere la certezza che qualora apponesse apponga la firma sul contratto no che gli allungherà saputo adesso parleremo anche di questo lui debba avere la certezza che si giochi una coppa e soprattutto che si giochi possibilmente la coppa dalle grandi orecchie ecco che allora io penso qualora dovesse essere champions league io dico tiago motta all 80 per cento secondo me rimarrebbe poi c'è sempre perché dico 80 perché c'è sempre l'imponderabile ragazzi c'è l'imponderabile faccio un esempio anche se magari non sarebbe l'esempio più più giusto perché stavo pensando di che l'inter alla fine si vince il campionato però in coppa poi esce simon in zaghi reputa d'aver fatto quello che ha fatto con l'inter meglio di così non si può fare vuole accettare magari un'offerta che arriva dalla premier liga arsenal liverpool che ne so si libera la panchina dell'inter tiago motta è stato quello del triplete l'inter gli offre la panchina potrebbe non lo so sto facendo poi magari potrebbe essersi il discorso è ma andrebbe a giocare ad allenare una squadra che appena vinta il campionato con il record dei punti diventa difficile per le stesse ragioni ha rifiutato napoli e quindi magari per questo motivo non è l'esempio migliore che si potesse fare però ci siamo capiti c'è l'imponderabile nel calcio però io dico all'ottanta per cento se si prende la champions league lui rimane poi che cos'è quella quell'altro venti per cento l'altro venti per cento lo facciamo noi noi inteso come società e lì viene fuori saputo con il suo contratto di lavoro dove deve apporre appunto determinate postille contrattuali per favorire no la permanenza di tiago motta e come si fa a favorire con ulteriore forbice vicina al cento per cento la permanenza del tiago motta e cercando di dare tiago motta delle rassicurazioni delle certezze che magari sino a ieri non si riuscivano a dare ad esempio per quanto concerne la costruzione futura della squadra sia per quanto riguarda cessioni sia per quanto riguarda acquisizioni intanto guardate luce divina che viene appunto a calarsi dal cielo e appunto a riflettere su questo video sommo nonché erudito del cui presente erudito sommo l'ho già detto ridiciamolo dottore ebbene così propriamente stiamo parlando di postille contrattuali che gioia e grazie saputo ci vorrà sicuramente dispensare perché non potrà più farne a meno stavo dicendo appunto se darà le chiavi le redini ad una specie di sir alex ferguson no nostro sir come sarebbe tiago motta no diventare il manager alla pari quasi dico con sartori così come fu creato no il binomio sartori gasperini anche perché non escludo che siano stesso sartori a far capire che la formula vincente per una squadra vincente non sia semplicemente avere dei dirigenti capaci come finalmente adesso sartori è e sicuramente lo è una un ave a sartori fiducia come sempre abbiamo acclamato ok qui sul canale ma è anche avere insieme al dirigente fuori classe un un allenatore che è il top class di serie e tiago motta è un top class di serie non è badate bene facile facile andare a trovare sul mercato altri top class di serie perché l'allenatore come io sempre sostenuto non mi sono mai stancato di dire e chi mi segue da sempre lo sa porta punti alla squadra ok porta punti alla squadra lo dicevo sempre che non andava bene che bisognava trovare un allenatore vero finalmente abbiamo un allenatore vero non è facile trovarne quindi occhio a tra virgolette lasciare andare quando lo si trova un allenatore vero facciamo ricendere la luce perché altrimenti è troppo buio quindi sartori sa che necessita anche quella parte lì e io sono convinto che lo spiegherà a saputo magari la musica no però ok se no poi ci citiamo tutti e quindi gliel'avrà spiegato e saputo farà tutto io spero quello che potrà fare per cercare di assottigliare la forbice e poterla spingere vicino al 100 per cento per la permanenza poi certo aiuterà anche l'ingaggio superiore che cioè lo stipendio che percipirà tiago motta ma sapendo la fresca di cui a disposizione ti è saputo sicuramente quello non sarebbe un problema più di tanto piuttosto secondo me e lì però subentreranno subentrerà l'abilità di sartori sarà ricavare il massimo dal mercato in termini di sessioni in questa sessione di mercato senza cedere pezzi importanti della squadra qui c'è da fidarsi di Giovanni fiducia sartori e ovviamente delle nuove acquisizioni che appunto regalerebbero a tiago motta una squadra completa due formazioni come abbiamo oggi che possano appunto competere per due palcoscenici importanti quale potrebbe essere serie a e champions league ricordate che dopo cos'era dopo il 20 non mi ricordo più qual era la squadra orlandese con cui tra l'altro si era vinto 1 a 0 tiago motta disse occhio che non siamo competitivi e poi facciamo tutta quella serie di acquisizioni siamo diventati competitivi per quanto riguarda appunto campionato e coppa italia ora immaginate che subentri una coppa europea immaginate che arrivi una coppa europea dalle grandi orecchie e lì si torna un pochino a quel punto nel senso occhio a farmi determinate cessioni perché se mi vai a cedere zirk zey se mi vai a cedere calafiori se mi deve cedere ferguson come puoi pretendere che io tiago motta possa rimanere qua seduto in panchina quando magari mi vai a prendere sì i matte matte matteo rilei dal celtic mi vai a prendere tutta una serie di calciatori che si possono essere interessanti ma che sono comunque tra virgolette un punto a capo di ripartenza invece no bisogna mantenere il nucleo vincente di questo bologna e per nucleo vincente vuol dire che tutta quell'ossatura di quel determinati giocatori tra cui ho già citato zirk zey ferguson calafiori robe varie e potremmo astendere mdoie sono tutti giocatori che devono tiago motta deve avere la certezza che rimangano bisogna eventualmente andare a trovare il sacrificabile perché è indubbio che il bologna dovrà anche lei fare una voce alla plusvalenza attiva e quindi bisogna sacrificare la pedina giusta e bisogna individuarla in maniera certosina ok e quindi se si danno a tiago motta queste rassicurazioni se si allestirà dunque la squadra andando ad aggiungere e non a sostituire allora ecco che tiago motta secondo me sarà più facile e semplice potrà porre il rinnovo contrattuale insomma la scorsa estate avevamo detto che quella che sarebbe arrivata sarebbe stata l'estate della verità che avremmo capito il futuro e le sorte del bologna e siamo stati accontentati sartori ha fatto il suo e l'ha fatto oggi possiamo dirla a posteriori da 10 elode e tiago motta per il momento è da 30 elode con bacio con slinguazzata accademica però ecco la prossima estate sarà paradossalmente adesso ovviamente perché è la prossima e quindi la futura la più difficile ancora molto di più di quella che non v'è stata prima perché bisognerà andare ad implementare ok e non a tra virgolette grattare con rischio che poi deflagri tutto su di sé come un castello di sabbia fatto in riva al male con le onde che piano piano la levigano e inevitabilmente la fra crollare parleremo di tutto questo comunque in prossimi video adesso mi sono un attimo dilungato mi sono mi sono mi sono perso mi sono ritrovato ma è bello così perché qua si fanno chiacchiere da bar come se voi foste davanti a me con due pinte se le siamo sbevazzate abbiamo fatto ragionamenti è bello per questo ci piace per questo continueremo a farli quindi campanaccio attivo iscrizione condivisione lasciate tutti mi piaccino che potete e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da barmo sorbolina che bulagna